bloccate, spintoni e manganelli, agenti in tuta antisommossa. La polizia intanto identifica 87 persone, si arriva a mezzogiorno, tra gli occupanti ci sono anche studenti che dovranno adesso trovare un'altra sistemazione. La manifestazione in via Verdi davanti alla RAI si scioglie ma per prendere forma di nuovo in via Po e bloccarla e poco dopo scontri con tentativi di sfondamento del cordone di polizia e cariche. Tensione altissima in piazza Castello davanti alla regione e così fino a tardi in un alternarsi di attimi di calma, assemblee, cariche e repentine fughe. Da piazza Castello in via Pietromicca verso via Cernaia mentre il traffico va in tilt e tutto è bloccato. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore.